Ieri i lavoratori precari della scuola del coordinamento di Roma hanno occupato il terrazzo del provveditorato di Roma. Dopo una trattativa con la polizia abbiamo deciso di occupare il pian terreno. Stamattina stiamo organizzando una colazione che abbiamo offerto sia ai lavoratori precari che sono venuti a trovarci, sia alle persone che passavano. I motivi della nostra protesta sono in particolare l'opposizione ai tagli. Quest'anno soltanto nel Lazio si tratta di 4.000 cattedre in meno, sostanzialmente si tratterà di 1.200 persone che rimangono senza lavoro. Noi chiediamo in primo luogo le dimissioni immediate del Ministro, in secondo luogo il ritiro dei tagli, in quanto tantissime persone rimarranno senza lavoro. Siamo contrari all'umiliazione dei contratti di disponibilità, in quanto in primo luogo sono un'umiliazione, perché il lavoratore passa da essere insegnante ad essere un tappabuchi. In secondo luogo non riguardano tutti quanti i precari, ma soltanto coloro che hanno avuto un'incarica annuale, quindi ulteriormente spaccano ulteriormente la categoria dei precari. Noi siamo contrari, continueremo qui fino a lunedì 7, questa occupazione durerà, lunedì 7 alle 15 si terrà una grande assemblea qua davanti di tutti i precari, nella quale decideremo le future forme di mobilitazione.